Buongiorno ragazzi, oggi mi trovo a Bolzano e sono nella stupenda piazza Gries Adesso andiamo a farci un giretto in bicicletta da piazza Gries fino a piazza Vittoria E' un sacco di tempo che non vengo a Bolzano, ci vengo più o meno 2-3 volte all'anno al massimo Quindi mi fa piacere fare questo giretto con voi Sono messo la telecamerina qui sul petto e da questo vedo come sta andando Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo arrivati in piazza Vittoria e questo qui è il monumento alla Vittoria, guardate che bello che è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti